Il suo nome è... Caspar La macchina da presa per me è come una sorta di matica che mi permette di manipolare la realtà per inventarne una completamente mia Sai che la tua testa mozzata starebbe proprio bene nelle mie fotografie? Pensi che forse potrei farlo anch'io? Perché no? Credo di sì È tutto vero È tutto qui dentro Lo guardi Meno una volta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti